Insomma, mi devo preoccupare, ma... Non lo so, non si può sparire così. Non ci si comporta così, capito? Eccolo. Grazie. E tu, che caccio sei stato? Dove sei stato? Che cazzo ridi? Ma calma, Dio. T'ho cercato tutta la notte, perché non rispondi al telefono? Ti sei impazzito? Che vuoi, Carmelo? Ho pensato qualsiasi cosa, Manuel. Ho pensato di avessi avuto un incidente, qualsiasi cosa ho pensato. Scusate se mi entrometto, ma ha dormito a casa mia. Io pensavo che lo sapessi. Mi l'hai detto, Manuel? No, non me l'ha detto. Non l'ho detto, ma se fa una scenata inutile, guarda. So vivo. Ma la mamma mia, devo andare a cazzuazzo, devo andare a... Te invece sei viva dopo una scenata. Sì. Che significa? Che vuol dire? Non so capito io, non ti preoccupa. Il casco... Ma è un cretino questo, mi fa diventare cretino. Eh, ma, dai, comunque, ti ripeto, è stato tutta la sera a casa mia a studiare con Simone, diciamo, a studiare. E lui, Simone? Sì, quello alto lì, quello che fa bene. Che strano, eh? Cosa? Beh, è che dopo tanti anni siano diventati così amici senza sapere che sono stati compagni di lettino nello stesso ospedale per una notte. Eh, già. Comunque, tranquillo, non vi ho detto nulla, Manuel. Come mi hai chiesto tu. Che se... Non ho capito bene il perché. Cioè, Simone, sta bene? Ci sta bene. Sì? Sì. Oh, meno male. No, è che per me... Perché magari... No, per me quella notte è stato un po' un trauma, diciamo. Sì. Quindi, insomma, preferisco non dirglielo tutto qui. Capite? Sì. Sì. Senti, io adesso però devo andare e... Ti saluto. Ciao. Ciao. Buona giornata. Anche a te. Buona giornata. Certo, certo. Proprio questa? Ma si può sapere che è stato stanotte a mandarci la traduzione? Non lo so. Regà, sicuramente è uno che vuole rimanere anonimo, se no mai non la mandavo da un indirizzo chiamato Pantarelli. Vabbè, oh. Chiunque te stia, inserizzo in inglese. Oh, l'hai inviata te, ce l'hanno tutti. Ma no, non sei stato te. Ma che allora, chi è stato? Beh, che si fa qua? Si fa conversazione invece di tradurre? Il latino almeno, spero. Pronto, non mi rimetta la musichetta perché è veramente da di matto. Eh, ma non è possibile, ma che servizio è? Pronto? Pronto! Mi serve una mano? Mi sei fermata la macchina, non so che fare. Tra dieci minuti devo essere a casa, sto trasblocando. Vabbè, ti posso dare un passaggio io con quella? Quella? Eh, quella c'ho. Davvero? Andiamo. Grazie. Aspetta. Ma ce l'hai un posto per questa? Sì. Ma vai piano, vero? Hai detto che sta in ritardo. Eh, ho capito, però ci vorrei arrivare viva a casa. Il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare. Sana e salva, no? Era una vita che non andava in moto. Ti è piaciuto? Sei stato un tesoro, grazie. Allora ciao. Ciao. Com'è che mi ha baciato?